Ben ritrovati amici telespettatori di Rete 8 per questo nuovo spazio di approfondimento dedicato alle prossime amministrative in programma ricordiamo il 12 di giugno oggi ci troviamo a Martinsicuro comune sulla costa Terramana dove sono tre i candidati alla carica di primo cittadino andiamo subito a presentare sono il sindaco uscente Massimo Bagnoni appoggiato da tre liste Martirrosa, Progetto Comune e Continuiamo Insieme tre liste anche per Simona Lattanzi la candidata sindaco dell'area di centrosinistra PD Piazza Grande Europa Verde e Emma Zarroli ex presidente del consiglio comunale tra le file di Massimo Bagnoni appoggiata dalla lista civica Rigeneriamo la città ma va ricordato che Martinsicuro è un comune sopra i 15.000 abitanti quindi bisognerà vedere se il primo turno basterà ad eleggere il nuovo sindaco oppure si dovrà andare il 26 di maggio nuovamente alle urne ma non perdiamo tempo e andiamo subito ad ascoltare le parole dei tre candidati Siamo in compagnia di Simona Lattanzi la candidata dell'area di centrosinistra appoggiata da tre liste Piazza Grande Europa Verde e Partito Democratico iniziamo subito a parlare con i cittadini a spiegare ai cittadini perché la sua scelta di candidarsi Io ho accettato volentieri questa candidatura inaspettata perché le mie manie di protagonismo sono limitate quindi non avrei mai pensato, io sono abituata a lavorare sul territorio in questi cinque anni chi mi conosce ha visto che ho dedicato tutto il mio tempo libero quando possibile a partecipare ad eventi a sostenere associazioni, comitati e a lottare per alcune questioni risolte o nuove Io sono pronta ad affrontare questa sfida sostenuta da un gruppo coeso che vuole dedicare la propria attenzione a cambiare finalmente la direzione che sta prendendo questa città che ormai sta quasi spegnendosi pian piano sia dal punto di vista turistico, commerciale ma anche sociale e giovanile Parliamo quindi del programma visto che lei ha delle idee in mente per rilanciare appunto questo comune che poi è un comune molto importante della Costa Terramana che si trova al confine con le Marche Siamo il più grande comune della Val Vibrata e quindi abbiamo l'obbligo di restituire un pregio e un'eccellenza che possa invogliare le persone a venire da lontano proprio qui perché qui c'è qualcosa di speciale qualcosa che in altri posti non riescono a trovare Noi abbiamo già strutturato idee concrete ma semplici da realizzare non occorrono grandi opere perché il territorio è bellissimo e va solo riqualificato, riportato alla luce spolverato, riordinato e questo basta già da solo a cambiare il volto e la vivibilità della città Quindi comunque c'è bisogno di un piano di sviluppo turistico altrimenti si rischia che rimane qui, le bellezze che ci sono rimangono qui Esatto, vogliamo appunto che questo posto venga conosciuto e apprezzato da tutti Sia chi ci vive che chi viene qui in vacanza Portare valore culturale, artistico, che possa essere di richiamo e questi sono gesti semplici che non costano molto che non comprendono grandi finanziamenti che poi fanno fatica ad arrivare e poi fanno fatica a essere sviluppati proprio perché sappiamo che in Italia c'è questa lentezza burocratica che ci impedisce di risolvere prontamente le criticità o riqualificare appunto alcune situazioni Quanto è importante secondo lei la vita all'interno del comune e dei cittadini? È fondamentale, noi abbiamo visto in questi anni io non ho scelto di candidarmi per lottare contro l'attuale amministrazione ho scelto di farlo perché ho visto disattese molte istanze dei cittadini io in questi anni ho ascoltato molto le persone proprio perché ho vissuto in ambienti associativi ho collaborato e quindi so benissimo cosa bisogna fare proprio perché ho recepito queste istanze e ho potuto mettere a punto un gruppo che contiene molte competenze che può benissimo risolvere queste criticità Il problema anche di Martinsicuro è quello della microcriminalità un problema che purtroppo molte volte riguarda proprio i comuni che sono al confine con le altre regioni come si può intervenire per cercare di contrastare questo fenomeno? Allora, la questione della sicurezza cittadina è il problema principale diciamo che è la spinta che mi ha costretto proprio a candidarmi perché sono preoccupata sono preoccupata dei giovani, dei figli miei e di quelli delle mie amiche perché appunto abbiamo difficoltà a vivere certi quartieri in serenità la sicurezza si guadagna eliminando il degrado urbano il degrado urbano viene da una serie di scelte scellerate di speculazione edilizia che negli anni si sono susseguite senza avere uno scopo, senza pensare alla vivibilità ma pensando solo al guadagno facile, d'immediato che è quello delle abitazioni che come sappiamo sono quasi per la metà disabitate e quindi in quegli ambiti dove c'è abbandono e non abitato è evidente che si sviluppano situazioni di microcriminalità quindi collaborando con le forze dell'ordine ma anche con i quartieri e con la potenzialità dei cittadini di fare anche una funzione di controllo e di relazione con l'ente secondo me queste cose possono migliorare in questi anni purtroppo abbiamo visto che questa miglioria non c'è stata e quindi questo è veramente un'emergenza che bisogna risolvere Per contrastare il fenomeno di cui stavamo parlando quanto è importante dare alle nuove generazioni anche una possibilità di lavoro perché essendo un comune della costa sì l'estate è sempre pieno ci sono i turisti ok quindi dal punto di vista lavorativo può rappresentare molto però poi durante gli altri mesi Infatti innanzitutto in questi anni e gli ultimi anni abbiamo visto un depauperamento delle attività commerciali molte chiusure molte legate al covid ma anche grandi aziende che agivano sul territorio hanno abbandonato Ad esempio anche l'aveco Anche l'aveco purtroppo è fallita quindi bisogna cercare di riqualificare questo tipo di attività e strutturare un nuovo indotto che può essere attrattivo per investimenti futuri e anche per dare la possibilità ai giovani di rimanere sul territorio di farsi una famiglia qui e di vivere una vita nel posto dove sono nati L'estate possiamo dire oramai alle porte Qual è secondo lei l'iniziativa più importante che Martinsicuro deve riscoprire o meglio che ha messo una manifestazione che c'era nel passato e che è stata messa poi nel cassetto Allora l'estate è un punto di forza di questo luogo perché ovviamente abbiamo il mare che è un'attrattiva di per sé Però non possiamo farci più bastare questi due mesi perché ovviamente non sono sufficienti a garantire una serenità economica per le famiglie e per i cittadini Quindi noi abbiamo idee chiarissime su come sviluppare un tunismo che è diverso che è proprio di eccellenza nel senso di ecosostenibilità Vogliamo portare Martinsicuro ad essere un'asi di benessere in cui le persone sono proprio spinte a visitarci perché è un luogo dove possono ricrearsi ed è un luogo speciale dove possono trovare qualcosa che altrove non c'è Se dovesse essere lei il nuovo sindaco di Martinsicuro qual è la prima cosa che farebbe? Riqualificare le piazze o farle dove non ci sono Abbiamo la frazione di Villa Rosa che non ha una piazza, non ha un luogo sociale Abbiamo giardini abbandonati, terreni anche comunali che potrebbero essere sfruttati diversamente e quindi la prima cosa sono le piazze e poi rivedere la viabilità degli accessi alla città e questi rotatori che creano così tanti problemi a chi lavora fuori dal comune La costa, ma come le altre sorelle della provincia di Teramo della costa ci sono stati negli anni purtroppo tanti problemi anche Martinsicuro ha avuto il problema dell'erosione il problema è che per intervenire in questi contesti c'è bisogno di tanti fondi il PNRR può essere una soluzione a questo? A questo è il momento storico d'eccellenza per reperire fondi non solo quelli del PNRR a livello nazionale ma anche quelli direttamente dall'Europa perché appunto c'è questa volontà di sostenere una rinascita dell'economia noi abbiamo la possibilità di intercettare questo canale nel senso sostenibile perché appunto abbiamo un territorio che ci permette di farlo ancora perché ha molte aree naturali questo intercettare questi fondi può veramente dare la possibilità al paese di cambiare fino a ora purtroppo questi soldi secondo me sono stati un po' dispersi in vari riboli che però non hanno dato un vero cambio d'aspetto di vivibilità in generale ma anche e soprattutto dal lato economico che vediamo che ormai si sta impoverendo sempre di più Siamo arrivati alla fine di questa intervista perché i cittadini di Martinsicuro devono votare Simona Lattanzi? Perché Simona Lattanzi se fosse sindaco promette che entro 100 giorni il volto di questa città cambierebbe totalmente Perfetto, grazie mille a Simona Lattanzi la candidata dell'area di centro-sinistra appoggiata da Tre Liste Piazza Grande, Europa Verde e Partito Democratico Siamo in compagnia di Emma Zarroli la lista di centro appoggiata da Rigeneriamo la Città Come mai la scelta di candidarsi dopo comunque di aver amministrato questa città per cinque anni come Presidente del Consiglio Comunale? La mia scelta di candidarmi nasce da un presupposto quello di continuare a restare insieme alla mia gente atteso che ho sempre dato un contributo da oltre vent'anni ad una fetta importante della società che è la società formata dai cosiddetti civici Fermo restando che per quanto riguarda le amministrative ritengo che ciascuno di noi debba portare nel proprio cuore il proprio ideale e non confonderlo perché le esigenze ciò che bisogna valorizzare sono le esigenze delle persone oggi esco da un'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Bagnoni che ringrazio, in cui abbiamo collaborato fattivamente per cinque anni in cui abbiamo lasciato dei progetti in fase di esecuzione sul lungomare il cinema ambra e quant'altro però ho deciso di intraprendere questo percorso diciamo distanziandomi dal sindaco Bagnoni atteso che cinque anni fa eravamo civici eravamo 78 persone oggi il sindaco Bagnoni ha fatto tre liste e quindi come tale ha creato diciamo uno spartiacqua diciamo fra quella che è la politica e quella che è il mondo civico quindi ho ritenuto che questa fetta di persone che hanno bisogno, che va oltre un lungomare cioè il lungomare è una cosa essenzialissima è importante come riconoscimento in una cartina geografica con le altre regioni è importante perché porta anche una tipologia con la ristrutturazione, la rigenerazione ecco del tessuto urbanistico porta anche una rigenerazione del turista e quant'altro ma non possiamo dimenticarci che ci sono persone, famiglie intere che ancora aspettano qualcosa da parte dell'ente, da parte delle istituzioni specialmente dopo la pandemia cioè nessuno si è posto il problema delle famiglie dopo post pandemia noi stessi sono una professionista dopo la pandemia abbiamo subito un danno economico non indifferente figuriamoci le persone che non sono professionisti ci sono persone a Martinsicuro che da cinque anni attendono le cosiddette case ATER post-sisma e in cinque anni vanno da un appartamento all'altro quindi è venuta meno la loro identità loro possono un giorno all'altro anche morire non sapere dove morire i loro affetti, le loro cose sono dentro questi palazzi che ancora non sono oggetto di ristrutturazione quindi ho deciso di mettermi in campo innanzitutto per essere sempre vicino a questa gente avevo già promesso allora quando il sindaco Magnoni uscì sulla stampa dicendo che si ricandidava e che era un uomo di centrodestra e apriva i partiti quindi con tutto il rispetto perché anche io sono una donna di partito ho ritenuto che in quel gruppo di liste non potevo esprimere me stessa perché ho una forma mentis ho un tessuto sociale a mio parere diverso quindi per consentire a tutti i cittadini di poter fare delle scelte oggettive cioè che variano indipendentemente dal candidato sindaco ma queste scelte devono ricadere su un programma il mio è un programma che si basa tanto sul sociale tanto perché in questi cinque anni ritengo che proprio perché tra la pandemia e anche per venire dietro a quelle che sono le strutturazioni del lungomare quindi progettazione questo settore è rimasto un attimo accantonato non si tratta di elargire nel sociale quelle che sono le sovvenzioni che dà lo Stato per post pandemia cioè questo è un problema che lo fa l'ufficio non è un problema di settore il settore deve creare dei progetti per l'inclusione degli anziani dei giovani ecco il lavoro un altro argomento trattato da me abbiamo zone industriali che sono completamente abbandonate cioè capannoni tutti falliti ad esempio l'Aveco quindi una per tutte l'Aveco dove stanno questi operai cosa ha fatto il comune quindi compreso durante il periodo dell'amministrazione non è stato curato questo settore quindi io ritengo che con la creazione di cooperative di gente locale possiamo dare affidare a queste cooperative di giovani fino a 40-45 anni per esempio tutto il recupero della parte ambientale e quindi creare un'economia circolare per quanto riguarda invece il turismo ritengo importantissimo per una società che si muove in velocità innanzitutto la viabilità viabilità leggera viabilità leggera che non si ferma soltanto sulla viabilità del lungomare quindi piste ciclabili ma le piste ciclabili devono abbracciare anche le nostre colline abbiamo turisti che vengono pure dal nord Europa dove sono proprio abituati vanno in campeggio ma amano andare in bicicletta e non possono soltanto diciamo andare lungo diciamo lungo il litorale le colline nostre vanno valorizzate vanno apprezzate ci sono edifici benefici e quant'altro quindi dobbiamo far sì che diciamo tutto il tessuto urbano tutto il tessuto economico si mette in rete quindi su questo proposto una app affinché diciamo quando viene il turista anche lo straniero e anche plurilingue quando viene il turista lo straniero possa diciamo con un click sapere quante attività commerciali abbiamo quante esercizi pubblici abbiamo quanti alberghi quanti B&B e quindi potersi muovere con una certa celerità senza fermare il vigile senza restare un attimo spiazzato all'interno quindi anche con una bellissima cartina diciamo delle nostre strade poi c'è la valorizzazione del verde io diciamo durante il percorso Bagnoni ovviamente ero presidente del consiglio ho curato tutta la parte diciamo la ratifica di tutti gli atti più importanti tutte le commissioni tutte le capogruppi quindi ho fatto tutto questo lavoro ma ho cercato di dare pure una mano al sindaco Bagnoni atteso che lo stesso si è lasciato parecchie deleghe una per tutte la delega al turismo quindi ho cercato di restituire per esempio attraverso degli eventi sonori di restituire la piazza Cavur ai martinsicuresi attraverso degli eventi ho fatto degli eventi molto importanti uno per tutte l'Estat Twist Again che ha diciamo ha portato oltre mille persone in piazza e quindi anche le attività commerciali ne hanno usufruito ho creato la festa della Repubblica cioè tipo un maxiconcerto che inizia alle 4 finisce a mezzanotte dove ho valorizzato quelli che sono i nostri artisti perché noi abbiamo addirittura abbiamo proposto pure di fare un albo dei nostri artisti cantautori e quant'altro ho cercato di fare del mio meglio collaborando cioè portando tutte le indicazioni che recepivo fuori ecco sono stata una consigliera a parte il fatto che sono stata presidente del consiglio ma sono stata una consigliera attiva attiva e ovviamente nel momento in cui rientravo dentro pretendevo una città diciamo perfetta ovviamente questo non è possibile perché anche tra la pandemia e il personale a volte la riduzione però ho cercato di fare del mio meglio quindi la mia scelta su una lista di buttarmi su una lista civica e per consentire alla città quindi a quella fascia di persone che hanno altre esigenze che non ruota attorno un piano regolatore il piano regolatore va fatto perché è antico e va sistemato ovviamente io sono per una zona residenziale e quindi creare non so anche in pianura non solo palazzi ma belle ville villette diciamo medio medio comunque a 360 gradi però purtroppo il tempo sta finendo in 30 secondi perché i cittadini di Martinsicuro devono votare Emma Zarroli devono votare Emma Zarroli per un senso di equità cioè sono al centro di due coalizioni posso tranquillamente far penetrare il mio programma in entrambe le due coalizioni mi metto a disposizione con entrambe le coalizioni affinché questo programma di cui diciamo è la parte più importante di questa candidatura possa penetrare e quindi posso aiutare continuare ad aiutare in un modo diverso quindi da un punto di vista istituzionale questa gente che mi sta molto a cuore grazie mille Emma Zarroli candidata della lista Rigeneriamo la città ultimo ospite è il sindaco uscente Massimo Vagnoni appoggiato da tre liste Progetto Comune Martir Rosa e continuiamo insieme hanno più volte detto che il suo è uno schieramento di area centrodestra è così oppure no? questo è un argomento che non interessa ne a me ne credo ai cittadini è uno schieramento fatto di persone in cui ci sono anche simpatizzanti del centrodestra come ci sono persone che hanno voluto far parte di un progetto che è iniziato diversi anni fa ha fatto di tante cose buone che punta a rinnovarsi e quindi quello che più a noi interessa è essere un gruppo di persone valide che metta a disposizione il proprio tempo e le proprie professionalità per far crescere questa città e credo che siano un po' gli argomenti principali di questa campagna elettorale quindi la sua ricandidatura è per continuare il lavoro che avete iniziato cinque anni fa sì uno dei motivi è sicuramente questo io sono in politica da diversi anni ho iniziato a portare avanti un'idea di far politica che punta molto sul coinvolgimento sul lavoro che possa portare poi la nostra città veramente a migliorare di anno in anno e al centro di quelle che sono le varie dinamiche sovracomunali e quindi per poter portare in questo comune più finanziamenti possibili più pregiuditevolità possibile e farlo crescere Parliamo del programma quali sono le idee su cui continuare a lavorare? Beh chiaramente noi puntiamo su diversi temi dal sociale che è un argomento sempre importante che sarà ancora più importante nei prossimi anni la pandemia di questi anni la recente guerra porta delle conseguenze che solo in parte sono state attenuate dai finanziamenti statali abbiamo famiglie che hanno difficoltà e che hanno aiutate noi l'abbiamo fatto in questi anni con tantissime risorse ma dobbiamo fare di più e quindi dal punto di vista dell'emergenza abitativa il sostegno economico alle famiglie che hanno perso il lavoro o hanno delle difficoltà contingenti ecco da questo punto di vista dovremmo lavorare moltissimo la sicurezza continuare il lavoro non solo dal punto di vista della videosorveglianza che è un'attività importante che ha portato diversi frutti dal punto di vista della deterrenza un controllo più puntuale più specifico ed efficace sulle residenze dobbiamo controllare meglio rispetto a quello anche che abbiamo fatto in questi anni nonostante i risultati ci sono stati ma ci sono ancora situazioni da migliorare su quello interverremo le opere pubbliche abbiamo fatto un bel tratto del lungomare abbiamo riqualificato le diverse strade cittadine ma adesso partiremo con due nuovi lotti sia a Villa Rosa partendo da Via Firzi verso nord e a Martinsicuro dalla Rotonda della Spalmas verso il Porticciolo il lungo fiume la stazione ferroviaria che verrà completata a breve il ponte ciclo pedonale quindi una riqualificazione generale la ristrutturazione del cinema ambra rispetto al quale abbiamo ottenuto un finanziamento e stiamo già lavorando per una progettazione definitiva e esecutiva l'implementazione delle piste ciclo pedonali sono alcuni aspetti fondamentali non dimentichiamoci della scuola abbiamo fatto diversi interventi dal punto di vista infrastrutturale dal punto di vista gestionale ad esempio con l'introduzione del tempo pieno un'attività molto utile alle famiglie la implementeremo un'ottima collaborazione con le istituzioni scolastiche attraverso i propri dirigenti nuovi pressi scolastici questa era la nuova sfida non solo ristrutturare gli esistenti ma lavorare per far sì che piano piano queste strutture diventano sempre più all'avanguardia queste strutture ovviamente visto che i fondi è l'unica possibilità in questo momento rappresenta il PNR assolutamente sì da questo punto di vista abbiamo fatto diverse richieste e quindi ci attendiamo di poter prendere questi finanziamenti ma ci muoveremo anche all'interno del piano regionale di edilizia scolastica rispetto al quale abbiamo già fatto delle istanze qual è la sua idea per un piano di sviluppo turistico ricettivo? perché si parla tante volte di questi piani questi piani però poi molte volte non è mai partito sì noi stiamo lavorando su diversi punti noi chiaramente in questi anni abbiamo siamo dovuti ripartire per certi aspetti anche da zero quindi migliorando infrastrutturalmente quindi il discorso del lungomare è un forte attrattore turistico le piste ciclabili sono importantissime il marchio bandiera blu che abbiamo riconquistato dopo due anni la bandiera gialla come comuni ciclabili sono dei simboli che ci fanno conoscere ancora di più fuori e ci contraddistinguono un turismo familiare dobbiamo lavorare quindi per migliorare i servizi alle famiglie sia nelle spiagge nelle spiagge libere con servizi sia migliorando le nostre pinete i nostri parchi gioco investendo ulteriormente noi abbiamo investito centinaia di migliaia di euro sui parchi gioco continueremo a farlo sulle strutture sportive perché lo sport può essere anche quello un volano per il turismo e quindi lavorare da questo punto di vista il piano regolatore che andrà nella direzione veramente di uno sviluppo turistico e ambientale del territorio quindi abbattendo il consumo del suolo andando ad intervenire sulle aree degradali e riqualificando l'esistente purtroppo il comune di Martinsicuro molte volte deve fare i conti anche col fatto che è un comune di confine e lì poi si creano anche delle condizioni di micro criminalità lei ne stava un po' parlando quando stavamo facendo il discorso sul programma elettorale però bisogna trovare delle soluzioni quali possono essere? è una situazione che non neghiamo chiaramente essendo un comune di frontiera tra due caselle autostradali abbiamo delle situazioni critiche nel corso degli anni devo dire la situazione è migliorata ma abbiamo diverse situazioni che non vanno chiaramente la responsabilità è anche di chi anche non residente nel nostro comune magari di fuori però ha delle proprietà e affitta a chiunque noi su quello stiamo cercando di intervenire con l'ausilio delle forze dell'ordine per colpire anche i proprietari che se ne fregano magari del territorio perché non ci vivono ma affittano soltanto per guadagnare ci mettono di tutto dentro non è facile ma stiamo cercando un'attività costante ripeto parlavo prima della videosorveglianza che è sicuramente un forte deterrente più forze dell'ordine in giro e su questo ci impegniamo tutti ma abbiamo una stazione di carabinieri che lavora a regime quindi lavora molto bene le altre forze dell'ordine che comunque ci danno una mano ma chiaramente questo è un territorio che va aiutato da questo punto di vista perché è la porta d'Abruzzo si deve presentare bene meglio rispetto ad adesso ci stiamo lavorando ritengo che il nome di Martinsicuro piano piano sta uscendo fuori e quindi non solo cose negative ma anche cose positive meno i dati che abbiamo dal punto di vista degli affitti delle vendite delle case magari prima c'era gente che voleva vendere adesso si è fermato questo trend e quindi abbiamo fiducia dobbiamo attirare nuovi imprenditori nel settore turistico da questo punto di vista nuove imprese per il lavoro perché poi più investimenti ci sono sul territorio più forza lavoro creiamo e anche i problemi sociali sono di meno abbiamo parlato prima di costa è un problema che purtroppo l'erosione ha riguardato tutti i comuni della costa terramana le sette sorelle così chiamate voi siete riusciti a intervenire per quello che è possibile state continuando ad intervenire altrimenti c'è il rischio che poi come stavamo dicendo prima che i turisti scappino e vadano via assolutamente sì do qualche numero noi in questi anni abbiamo investito in attento a finanziamenti per oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di opere rigide diverse centinaia di migliaia di euro per la realizzazione di ripascimenti abbiamo ottenuto l'inserimento di Villa Rosa Sud all'interno del piano di difesa della costa abbiamo capito forse tutti e forse il ritardo di come ci si debba difendere dall'erosione quindi con delle barriere negli anni scorsi si era perso tempo a litigare su barriere sì e barriere no adesso ci siamo resi conto tutti che le barriere vanno fatte facciamole bene troviamo questi 60 milioni di euro famosi per fare l'intervento da noi fino a Giulianova e difendiamoci bene la sfida dell'amministrazione comunale e poi della regione Abruzzo sarà in questi anni quella veramente di difendere le nostre coste mettere scogliere dove non ci sono e fare manutenzione in quelle che ci sono noi lo stiamo facendo abbiamo altri finanziamenti in corso adesso 650 mila euro ulteriori in cui potremmo intervenire per rafforzamento del scogliere del Martinsicuro centro e quindi lo faremo cercheremo quest'anno di affrontare la stagione turistica al meglio siamo arrivati alla fine di questa intervista perché i cittadini Martinsicuro devono tornare a votare Massimo Bagnoli innanzitutto un appello ad andare a votare perché l'altra volta al secondo turno il 50% andò a votare questa è una sconfitta per tutti al di là di chi vince e chi perde bisogna andare a votare chiedo un voto per me per la coalizione che mi sostiene fatta di tante persone giovani meno giovani con esperienza che possono veramente continuare a dare a questa città quello che serve cioè una continuità da un certo punto di vista una progettualità e quindi nuove idee per un nuovo sviluppo grazie mille a Massimo Vagnoni appoggiato dalle liste progetto comune Martinsicuro e continuiamo insieme ebbene amici telespettatori di Rete 8 siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento avete ascoltato le parole dei tre candidati adesso quindi la palla passa in mano dei residenti di Martinsicuro e dovremo scoprire insieme se basterà il primo turno il 12 di giugno oppure si dovrà andare al ballottaggio in programma per il 26 di giugno grazie mille a tutti